La Campania è fanalino di coda fra le regioni d'Italia per la produzione di sangue, ben lontana dalla media nazionale di oltre 40 donatori ogni 1000 abitanti. Per incentivare le donazioni, sabato 13 a Piazza dei Martiri sarà realizzata la seconda edizione di Usanghikite Vip, un'iniziativa di solidarietà che a partire dalle 10 del mattino accoglierà i cittadini invitandoli a donare il sangue. Il Comune di Napoli è fortemente impegnato nelle iniziative benefiche, specialmente quando si tratta di stimolare e di fomentare la parte migliore della città, la parte che sposa solidarietà e sussidiarietà in questa città. Una città in evidente, chiarissima difficoltà, un'amministrazione cosciente e consapevole non può che stimolare la parte migliore e quindi stare vicino a questo tipo di iniziative. Organizzata dal Club Lions Lamont Young e dall'Avis, in collaborazione col Comune di Napoli, la manifestazione comprenderà uno spettacolo pubblico in cui cabarettisti, attori e musicisti testimonieranno il valore civico della donazione. Fra gli artisti che hanno aderito al progetto, Patrizio Rispo, Rosaria De Cicco, Ciro Giustiniani, Simone Schettino, Maria Bolignano, Nando Variale e Marcello Colasurdo. Sabato, 13 aprile, dalle 11 alle 15 saremo in Piazza dei Martiri per raccogliere il sangue insieme a un fotogruppo di VIP che ci daranno una mano. La chirurgia ha bisogno di adeguata disponibilità di sangue e in Campania il fabbisogno è superiore alla disponibilità effettiva. In Campania occorrerebbero, per soddisfare in parte le esigenze trasfusionali, occorrerebbero 140.000 unità di sangue e invece se ne raccolgono appena 120.000. consideriamo che soltanto l'Avis purtroppo ne raccoglie soltanto il 60% di questi 100.000. Quindi siamo sempre alla ricerca di donatori. Ai lavoratori che donano il sangue la legge riconosce l'intera giornata di riposo. È importante questa iniziativa per sensibilizzare la società, la gente a fare questo atto di amore appunto perché c'è tanta carenza. Non so se il nostro servizio può essere utile a far sì che le cose cambino, però secondo me non è difficile cambiare le cose.